Il reddito di cittadinanza è ancora dibattito aperto su chi ritiene sia fondamentale per un contributo alla lotta contro la povertà, chi invece lo ritiene uno sperpero di soldi pubblici per i tanti, troppi furbetti e per chi accontentandosi di tale sussidio non cerca altro. Meglio forse concentrarsi sull'offerta lavorativa, se abolirlo o meno però, resta al vaglio delle forze politiche nazionali, ma ultimamente a intervenire sulla questione a livello provinciale è il sindacato Cisle che rilancia affermando che il reddito di cittadinanza non va abolito ma al contrario rafforzato. Lo sottolinea la segretaria generale della Cisle Ragusa Sitacusa, Vera Carasi, ricollegandosi alle numerose critiche sullo strumento di sostegno al reddito che arrivano da varie espressioni della società civile e della provincia eblea. In questi mesi, proprio sul reddito di cittadinanza e che risce Carasi, abbiamo assistito a un dibattito farlocco. Quando si è affrontato il tema povertà, ne hanno richiesto l'abrograzione tramite referendum, altri hanno sostenuto che non fosse necessario per portare avanti questo tipo di iniziativa, altri ancora hanno riscontrato la necessità di ridimensionare la misura dal punto di vista economico. Come Cisle, invece, crediamo che il reddito di cittadinanza vada salvaguardato e anche potenziato. Ricollegandosi alle posizioni già espresse dal sindacato a livello nazionale, la segretaria Carasi afferma che deve essere ampliata la scala di equivalenza appiattita su quei soggetti che hanno famiglie numerose. Bisogna allentare il vincolo di residenza per gli stranieri che contribuiscono in maniera considerevole allo sviluppo economico di tutto il paese. Non esiste a livello europeo una condizione così punitiva. Il reddito di cittadinanza è in primi se continua la Carasi un sostegno alla povertà, ma in seconda battuta è anche una possibilità di inclusione nel mondo del lavoro. Il suo ruolo centrale lo vediamo attraverso i centri per l'impiego. Vogliamo, continua ancora la Cisle, che quando i percettori sono chiamati abbiano contratti collettivi regolarmente applicati. Vogliamo che sia chiara e bene definita l'offerta di lavoro, il fatto di tempo e di distanza, aspetto che deve tenere conto, ad esempio, delle donne con figli che devono muoversi.